Siamo a febbraio, un mese che si appresta molto alla potatura in generale. In questo periodo molta gente inizia a potare. A prescindere da quale coltivazione si va a potare, ognuno di noi ha bisogno delle attrezzature giuste per la potatura. Qual è l'attrezzatura che ogni potatore professionale deve avere? Uno degli attrezzi più fondamentali in questo periodo è la forbice manuale. Negli ultimi anni si stanno abbandonando gli attrezzi manuali per il semplice motivo che stanno spopolando molte attrezzature a batteria. Hanno inventato forbici, seghetto e tanto altro ma tutto a batteria. Noi però di metaverde.it non vogliamo abbandonare i vecchi attrezzi manuali, quindi ci affidiamo in alcuni casi agli attrezzi manuali. L'attrezzo che preferisco maggiormente nella potatura della vite e dell'ulivo è la forbice. In questo caso vado ad utilizzare la splendida forbice della Castellari. Se avete intenzione di vederla andate qui e in caso vi piaccia potete acquistarla https2.com.to.3jx3r. Il costo di questa forbice è di 35,90€, un prezzo ottimale per una forbice professionale. Forbice professionale con battuta curva che permette di trattenere fermo il ramo in fase di taglio evitando il contraccolpo sul polso. L'impugnatura è di tipo universale adatta a destri e mancini. Il manico e la contro lama in lega di alluminio leggero sono forgiati a caldo, il trattamento superficiale con ossidazione anodica permette una maggiore resistenza nel tempo. La lama in acciaio con alta percentuale di carbonio è forgiata a caldo. L'incavo nella lama diminuisce lo sforzo necessario al taglio perché aumenta la penetrazione nel ramo. Come tutti gli utensili per la potatura manuale, è completamente intercambiabile e regolabile. Di questo attrezzo abbiamo tutti i pezzi di ricambio. Abbiamo la lama, il battente, tutte le viti e la molla che si trova al centro della forbice. Il costo dei ricambi non è molto costoso, quindi in caso di rottura basta sostituire il pezzo leso e possiamo tornare a lavorare. Molte informazioni sono state prese dal sito di Castellari SRL. Quindi sono informazioni utili e attendibili. Spero che questo articolo sia stato di vostro gradimento, ci leggiamo al prossimo Agriarticolo.